Bene amici di telefono.net, stiamo girando questo video e ora stiamo facendo uno zoom con Samsung Wave 2. Video che stiamo girando a risoluzione 720p, quindi 1280x720px. Pan veloce della via e ora mi fermo un attimo in modo che possiate valutare e giudicare la registrazione di questo video, ripeto, fatto da Samsung Wave 2 a risoluzione di 720p.